Conosciamo gli animali della nostra città è il nuovo progetto che porta avanti Argonauta e ha come l'obiettivo quello di far conoscere gli animali della zona ai nostri cittadini. Parleremo infatti di come riconoscere gli invertebrati, come riconoscere i ragni, come riconoscere i mammiferi, come riconoscere gli uccelli e appunto l'obiettivo è quello di creare una sensibilità diciamo scientifica se vogliamo nelle persone, nei nostri cittadini insomma. Ogni corso è gratuito ed è aperto a tutti, l'importante è prenotarsi al numero della associazione che è il 328 616 3202. I corsi continueranno fino al mese di ottobre e affronteremo i vari temi, per esempio affronteremo il discorso del lupo, parleremo di quali sono gli uccelli che si possono trovare al metauro e o comunque che migrano insomma sui nostri cieli, parleremo dei ragni, quindi anche del ragno di violino, parleremo degli invertebrati. Questo corso è possibile grazie al contributo del CSV e ogni incontro verrà registrato e caricato per intero sul nostro canale YouTube della associazione. Per chi volesse magari approfondire e conoscerci meglio può seguire i nostri canali social o il nostro sito argomatofano.org Grazie a tutti! Grazie a tutti!